Era uscito dalla casa di riposo dove risiedeva e di lui si erano perse le tracce. A rintracciare l'anziano sono stati i carabinieri che gli hanno anche offerto il pranzo. È successo a Cortona, l'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri quando il responsabile del centro anziani aveva avvertito il comandante dei carabinieri della scomparsa di un ottantenne con problemi di memoria e orientamento che si era allontanato dalla struttura senza farne il ritorno. I militari si sono così messi immediatamente alla ricerca dell'uomo. Le tre pattuglie si sono divise il territorio ed hanno setacciato anche i boschetti adecenti alla zona. Considerando la struttura morfologica dell'aria è stato anche richiesto l'intervento dell'elicottero per una perlustrazione dall'alto. Dopo due ore di serrate ricerche l'anziano è stato ritrovato dai carabinieri in collaborazione con il personale dei vigili del fuoco nei pressi di un distributore di benzina di Camucia lungo la strada regionale 71. L'ottantenne era in evidente stato confusionale poiché non si era reso conto del tempo trascorso e della strada percorsa. La storia fortunatamente si è conclusa con un lieto fine e i militari, anche vista l'ora, hanno deciso di offrire un pranzo rifocillante all'anziano prima del suo rientro in struttura. Grazie. Grazie. Grazie.